Il documento viene approvato all'unanimità. Così ha definito il dibattito sul tema e il Sant'Elia un luogo atavico di potere, duro nei toni contro tutto e contro tutti, ha rivendicato il diritto di scelta di non partecipare all'assemblea cittadina e di pensarla in maniera diametralmente opposta rispetto a molti consiglieri. E tuttavia nella sospensione ha partecipato alla redazione del documento unitario e ha posto la firma insieme al collega del gruppo, Toti Petrantoni. Va bene, Fratelli Italia C'è a sostegno della città e questo lo abbiamo fatto anche per votare un atto che sia all'unanimità dell'intero Consiglio Comunale e non tirarci indietro. Però siamo fermamente convinti che il Policlinico in questo momento è una bolla di sapone. Tilde Falcone di Direnterà Bellissima, che ricorda ad ogni pieso spinto la sua esperienza politica, ha fatto un escurso sulle occasioni perse vent'anni fa dal Consorzio Universitario ed oggi ha detto che la vita ci ha dato una seconda possibilità e l'ha data alla città. Pare che i documenti già redatti erano un paio pronti ad essere tirati fuori al momento opportuno, ma sono stati ritirati per comporre un unico documento ex novo. Era da tempo che non si vedeva un Consiglio così compatto. Abbiamo raggiunto assolutamente una condivisione perché tutti abbiamo a cuore la nostra città e interesse per il nostro territorio, quindi sono molto soddisfatta. È stata Annalisa Petitto la più dura nei confronti del Sant'Elia, una battaglia che ha condotto in solitaria da tempo e che ha proposto alla Capigruppo in un primo tempo la convocazione del Consiglio Comunale tematico. Non indietreggiare di un passo, vigilare sull'ospedale, questa è la linea guida del suo intervento. Il Consiglio Comunale ha espresso la volontà di avere nella città di Caltanissetta la sede del Policlinico, ha ravvisato comunque l'esigenza di monitorare tutto l'iter che di qui al futuro si svilupperà e ha soprattutto evidenziato la necessità del potenziamento dei servizi sanitari dell'ospedale Sant'Elia e l'eventuale adeguamento del nostro ospedale di Sant'Elia, quale DEA di secondo livello, alla normativa vigente di DEA di secondo livello.